Dopo aver deliziato una generazione di ragazzi appassionati di fermodellismo questa macchina in perfetta scala H0 oggi ancora in tonza si prepara ad essere modificata per viaggiare anche su impianti provvisti delle nuove tecnologie continuando a stupire noi oggi che siamo i ragazzi di allora a differenza del precedente tutorial oggi vedremo l'aggiornamento dei modelli motorizzati e folle con componenti almorose ingegnerizzati tailor made per fare un po' di storia ci ricordiamo che le macchine vere furono prodotte dalla società milanese Breda tra il 1937 e il 1940 il loro esercizio regolare terminerà nella primavera del 1980 ed ecco le due unità oggetto dell'aggiornamento tecnotronico questa è l'unità folle e questa è l'unità motrice dunque per aprirle è semplicissimo è sufficiente allargare la cassa e sfilare il telaio come si presenta l'interno dell'unità motrice? dunque abbiamo un motore Bueller a tre poli che trasmette il moto tramite una cascata di ingranaggi ad uno dei due carrelli invece per quello che riguarda l'unità folle che si apre allo stesso modo ecco qui allargando la cassa viene via e qui possiamo notare gli interni riprodotti come un'unità motrice in maniera semplificata dove ovviamente il motore e la cascata di ingranaggi non ci sono ed ecco qui la cassa vediamo qui di seguito il resto del lavoro ed iniziamo con l'unità motrice sulla quale vado ad installare i seguenti componenti al morose una mineboard con innesto NEX18 un decoder ESO V5 NEX18 due schede luci con diodi bianchi e rossi una scheda di illuminazione interna e personaggi seduti per poter procedere al lavoro di aggiornamento tecnotronico è necessario sfilare il sottotelaio che si sfila facendo leva con le unghie un lavoro molto semplice ecco che cosa troviamo troviamo una piccola PCB avente le lampadine che andrò a sostituire con una mineboard al morose con i diodi led e poi delle porzioni di ferro che occorrono per aumentare la massa una porzione andrò anzi va eliminata perché poi occorrerà trovare lo spazio per inserire la mineboard pilota avente innesto NEX18 che ospiterà il decoder apposito da delle piccole dimensioni piccoli ingombri e poi notiamo quattro fibre ottiche che occorrono per trasmettere le luci ai fanali di marcia nei due frontali relative alle due cabine per prima cosa stacco la scheda luce originale ed elimino una coppia di lamierini per fare spazio alla scheda di comando stacco il carrello folle disossido e pulisco tutti i contatti elettrici striscianti lubrificando gli assali di seguito smonto il motore sfilandolo dai due collari che lo incastrano queste due linguette vanno recise isolando i contatti elettrici del motore il gruppo trasmissione come di consueto lo smonto e lo sgrasso completamente eliminando vecchie tracce di grasso a litio che con il tempo perde le caratteristiche di lubrificazione e si secca una volta puliti tutti i meccanismi va lubrificato e ingrassato l'intero gruppo trasmissione a questo punto vanno saldati i fili elettrici al motore e alle prese di corrente nel rispetto della normativa NEM il tutto poi va rimontato ed inserito sul telaio i fili elettrici li faccio giungere alla mainboard attraversando questi due fori già realizzati in origine dalla casa la mainboard di comando la posizione incollandola come in figura così anche le due schede luci una volta collegate elettricamente vanno posizionate e incollate frontalmente alle fibre ottiche consiglio a tutti di scaricarsi il service manual della mainboard in questione e seguire con attenzione le indicazioni del produttore per ottenere le giuste configurazioni dei fanali di marcia relative alle due cabine i led rossi vanno collegati alle uscite AUX1 e AUX2 i bianchi invece in modalità standard alle due uscite F0 a questo punto il sottotelaio va reinserito ed ora va posizionata la scheda di illuminazione interna che va collegata all'uscita AUX3 o AUX4 consiglio di posizionarla come in figura ovvero disassata e incollandola sotto tetto altrimenti la cassa non si chiude personaggi seduti e macchinisti termineranno il lavoro una appendice per i più audaci ed esperti io ho inserito le tendine stampandole su carta speciale ed inoltre ho realizzato dei contatti elettrici striscianti evitando fili elettrici tra telaio e scataluci di seguito un primo effetto ottenuto le unità folli in base ai lotti di produzione differiscono per due particolari il colore degli interni alcune lo hanno marrone altre come questa qui sono state lasciate in plastica color crema chiara e poi perché alcuni lotti hanno l'impianto di illuminazione altre invece no questa ad esempio non ce l'ha quindi nel kit Almorose ha previsto le fibre ottiche sono state previste le mini schede con il diodo bianco e il diodo rosso e la scheda per illuminare gli interni la stessa macchina poi verrà dotata di personaggi vediamo qui di seguito per l'unità folli sono previsti i seguenti componenti personaggi seduti scheda di illuminazione interno vettura un decoder funzioni al morose una scheda luce di marcia con led bianco rosso due fibre ottiche già dimensionate e una serie di lamelle prendi corrente alle quali vanno saldati i fili elettrici le stesse vanno posizionate di lato al carrello e allineate per permettere un buon contatto elettrico con le ruote le due fibre ottiche della lunghezza di 108 mm necessarie ad illuminare i fanali di marcia vanno inserite con attenzione all'interno delle guide e dei fori realizzati dalla riva rossi consiglio di fare riferimento all'unità motrice i problemi non ci saranno due fili di rame sottili li posiziono lungo i due lati del telaio sui quali saldo i fili che provengono dai carrelli e i fili di alimentazione del decoder consiglio di dipingere di nero questa porzione del sottotelaio azione necessaria per schermare ogni trasparenza di luce ed ora collego i fili elettrici del decoder e funzioni alle mini schede luci seguendo le indicazioni del service manual al morose il tutto va posizionato con della colla come mostrato in figura in questo caso le luci sono comandate con la funzione standard F0 ed ecco un primo effetto come nell'unità motrice e in tutte le altre unità la scheda luci deve essere posizionata lateralmente questa è un'azione necessaria altrimenti la cassa non si chiuderà perfettamente oltretutto ho notato che in alcuni lotti di protezione queste paratie queste paratie qui tendono a sfiorare il sottotetto quindi quelle che andranno poi a toccare la scheda luci in questo caso qui solo questa fila qui e quindi una, due, tre, quattro e cinque andranno ridotte con una lima asportando circa mezzo millimetro al massimo un millimetro un lavoro vi posso garantire semplicissimo ma laddove notate che cassa e telaio non si chiudono perfettamente il lavoro è d'obbligo una volta asportata questa piccolissima porzione lavoro tendo a ripetere facilissimo cassa e telaio torneranno a chiudersi perfettamente la scheda di illuminazione interna va connessa esattamente come già visto sull'unità motrice collegandola o all'uscita AUX 1 o all'uscita AUX 2 personaggi e tendine termineranno il lavoro non rimane altro che goderci il collaudo presso l'impianto Trissa del modellista Antonio Trissati GSM Station GSM Station Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.